Eccoci ancora una volta qui allo stand Wiko, terza e ultima volta ve lo promettiamo, sempre da IFA di Berlino e siamo in compagnia della linea di accessori lanciata dal produttore francese proprio qui in occasione della Kermesse berlinese Wiko quindi che si lancia anche in questo mondo degli accessori con delle cuffie sovraurali wireless o meglio bluetooth un speaker bluetooth anch'esso, una coppia o meglio sono una sola, è un auricolare sola ma sono diciamo in colorazioni differenti come possiamo vedere questa argento e questa invece oro e soprattutto vera novità la nuova WeMate ovvero una smart band dotata di sensore per la misurazione del battito cardiaco che vediamo qui dietro sul fondo nella parte posteriore della band, una band che offre tutte le funzioni classiche di questi dispositivi ovvero offre funzioni di notifica ma non solo, monitora la nostra attività fisica come abbiamo già detto registra il nostro battito cardiaco oltre che a svolgere le normali funzioni di orologio possiamo controllare il nostro calendario, ricevere notifiche da tutte le app proprietarie di Wiko quindi email, messaggi, sms, chiamate ma non solo, il prodotto infatti notifica anche la ricezione di messaggi whatsapp piuttosto che le notifiche di facebook e di twitter si tratta di un prodotto che offre una batteria in grado secondo quanto dichiarato da Wiko di garantire circa 5 giorni di autonomia quindi assolutamente un'autonomia molto buona il peso è veramente ridotto, si parla di 19 grammi questo prodotto offre poi la certificazione IP67 quindi è resistente alle infiltrazioni di acqua e di polvere e quindi liquido in generale e di polvere e quindi può essere utilizzato ad esempio anche quando corriamo non dobbiamo avere paura né della pioggia né del nostro sudore la band, il cinturino è in materiale plastico TPU mentre la scocca, il case della nostra smart band è in alluminio il prezzo è di 99 euro quindi un posizionamento sicuramente aggressivo e la nuova WeMate sarà disponibile anche in Italia a partire dal mese di novembre in queste 4 colorazioni quindi nero, verde, questo colore bordeaux amaranto e questo invece è colore bianco, sabbia, crema, begiolino chiamatelo insomma come più vi piace per il momento è tutto qui da IFA e in particolare dallo stand Wiko un saluto per Adul Upgrade, Davide Grazie